buongiorno a tutti per stare sempre di che c'ho le caccole stamattina non c'ho le caccole te credo non ce l'anno buongiorno a tutti buona domenica io non so più come dirvelo ad alcune persone che mi insultano dal 2018 su indm e io non gli ho mai risposto ragazzi vi leggo perché per vedere dove può arrivare la vostra mente malata io vi leggo vi ascolto e la vostra invidia è il mio successo ricordatevi uno invidioso di me non per quello che faccio io ma per quello che non farete mai voi a ricordatevi questo adesso mi cagando sotto vado a cagare alla fascia vostra degli invidiosi